Succede, arriva quel periodo dell'anno in cui non ho voglia di fare una mazza, in cui ti fa fatica a fare qualsiasi cosa, in cui ogni gesto, anche il più semplice, ci mette il doppio del tempo e proprio non capisci il perché, in cui volevi solo statene a letto la mattina, in cui dovevi svilupparti presto e dovevi fare un video ma scoppio di avere effetto sul collo perché è stato lì duro in più di se nemmeno esser te ne reso conto. Storia vera. Ragazzi, ho toccato con mano quando sia difficile fare un video su questo stato, quando si è in questo stato. Ho cercato disperatamente di farmi violenza, di scrollarmi, dandomi una data di pubblicazione, ma evidentemente non è servita a niente. Ma a sto punto mi sembrava una mancanza di rispetto, lasciarvi a bocca asciutta. Per questo eccovi qua un teaser del video finale. Come ogni volta mi sto impegnando per riempire questo argomento di contenuto. Non solo dalla mia prospettiva personale, ma di cose che possono essere utili anche a voi. Purtroppo, per ragioni di studio e allenamenti, non credo che il video uscirà nemmeno domani. Ma uscirà. Aspettate, sarei fiduciosi. E naturalmente vi dirò perché qua ho un'immagine di Roger Bannister. È una cosa a che fare con le prossime pubblicazioni. Se a questo punto non avete ancora preso i forconi, non posso che ringraziarvi per la vostra pazienza. Ciao atleti, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara. Ciao! 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 Grazie a tutti.